La ricerca medica continua a far parsi da gigante, ma le malattie le tengono testa e si evolvono continuamente. Ce ne parla Ippolito Germer. Come si tolgono le unghie incallite? L'ammasso di verruche è curabile? E il catarro che cosa vuole da noi? Queste ve le rispondete voi. Noi invece oggi parleremo di una patologia molto grave e lo faremo con il signor Giorgio Poveracci. Buongiorno Ippolito. Vuole spiegare al mondo in cosa consiste la sua patologia? Io soffro di attacchi di pane purtroppo. Attacchi di pane? E cosa vuol dire? Che ogni tanto mi colpiscono dei pane. Vedi signore come faccio? Non ci posso fare niente, è più forte di me. È una cosa brutta veramente quella, madonna mia. Ma le capita spesso quando le succede di norma? Quando sono emozionato ho agitato come ora. Aia, aia. Niente, non riesce. Non riesco, è più forte di me. Vediamo un contributo della sua vita allora. Abbiamo visto come la sua vita, signor Poveracci, è stata terribilmente segnata da questa patologia. Ma adesso grazie ai laboratori Nicigl abbiamo trovato una soluzione che le cambierà la vita. Ma veramente? Facciamo entrare i morti di fame. Ecco qua. Chi sono questi? Dio mio, chi sono? Grazie alla loro fame arretrata questi tre straccioni la proteggeranno e la seguiranno giorno e notte. E si mangieranno tutti i pani che le arriveranno. Ma adesso dove le metto? A casa è piccolo, su un piccolo monolocale. Questi adesso sono fatti i suoi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Pur a me mi è arrivato il pane, non ho capito come mai.